SIGLA Ho il piacere di presentarle a mia suocera, Clare, mia moglie, Michelle, e mia figlia, Silvia. Non mi interessano le ore della giornata, ma che non mi sfuga il tempo dalle mani. Dov'è il resto? Sei sotto la quota. Le mie unità di lavoro sono aumentate. Anche la quota. Due ore. È sempre costato un'ora. Ora sono due, il prezzo è salito. A piedi sono due ore. È meglio che corra. I poveri sono destinati a morire. Il sistema funziona così. Che significa? Che età hai nel tempo reale? 28. Io 105. La verità è che il tempo ci sarebbe per tutti. Ci sono uomini con un milione di anni, e molti con pochi giorni. Per pochi immortali la maggioranza deve morire. La telecamera ha rilevato un comportamento sospetto. Si chiama Will Salas. Tu non sei di queste parti, o sbaglio? Perché hai questo dubbio? Sei un po' diverso. Vieni con me. Ora che facciamo? Rubiamo? È rubare se è già stato rubato. Avanti, servitevi pure! Prendete il tempo, è gratis! Dove l'avete preso? Mille anni nelle mani sbagliate paralizzerebbero il sistema. Lo fermerò. Non siamo destinati all'eternità. Stiamo venendo a prenderti. Lo spero. Il suo crimine non era rubare il tempo. Lo voleva solo regalare. Stiamo venendo a prenderti. potatoes di caraccia.